Vabbè, mi spieghi. No, poi senti che c'è pagliato e chiesa. No, mi pare che c'è, non ti ricordo. C'è da qualche parte, se no non è un là. Oppure è uno di questi cazzi, qua ci stelle. No, non è possibile, qua è un pezzo. No, non è possibile.